Buongiorno a tutti, anzi buonasera, buonasera. Allora, magliettina, sì sì sì, magliettina, sì sì sì, perché vi faccio vedere la magliettina come sempre, perché è giusto farla vedere, e poi parliamo di questa partita della campionato europeo femminile, ma intanto facciamo vedere la magliettina. Allora, 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 eh signori miei, un massacro, un massacro, Norvegia e Irlanda è stato un massacro, poi vabbè poverini, c'erano i cronisti che cercavano di incensare un attimino l'Irlanda del Nord che ha preso quattro pere, e l'Irlanda del Nord esce a testa alta, e l'Irlanda del Nord alla fine ha fatto una buona paese, ma hai preso quattro pappine. Tra l'altro hai preso tre gol in mezz'ora. Il primo, vabbè, bella azione, si sono dimenticati la Blackstar sulla sinistra, la Blackstar, non la Blatta, la Blackstar tra l'altro una bella topolone, c'era la topolone. Ieri sera, perché ormai posso dirlo, ieri sera, ora che vedrete questo video saremo già venerdì probabilmente, più o meno, circa quasi, e si è giocato alle nove, no? Io ho avuto la diretta, l'ho registrata, me la sono vista dopo, ormai siamo a mezzanotte passata, tra giovedì e venerdì, e quindi pronti via dopo dieci minuti, c'è questa bella azione, palla sulla destra, cambio di gioco a sinistra, la Blastar lasciata libera sulla tre quarti sinistra, abbastanza in zona area di rigore, ma non centralmente, sulla sinistra, limite dell'area di rigore all'angolo, entra in area bella tranquilla, la giocatrice dell'Irlanda lì che cerca di recuperare, ma non ci riesce, tiro sul primo palo e lì forse la portierina dell'Irlanda del Nord, qualche colpina gliela puoi dare, ma fino a un certo punto, perché comunque la Blastar poteva scegliere, tirare sul primo palo, incrociare sul secondo, avanzare ancora e, come si suol dire, chiamare a sé il portiere e poi fargli il pallonetto, quindi il tiro è sul suo palo, però è forte, angolato ed arriva anche da dentro l'area, quindi non voglio dare esagerate colpe alla povera Barnes, però è un tiro sul suo palo, teoricamente il portiere almeno il suo palo lo deve chiudere se ti incrocia e non lo prendi, è un altro discorso, ma il tuo palo lo devi chiudere, lo dico da portiere, io infatti quando prendo il gol sul mio palo mi incazzo come una Iena con me stesso, anche se poi mi vengono a dire Gigi è un tiro da tre metri, cazzo potevi fare, scusate il francesismo, ma io mi arrabbio lo stesso, perché comunque io il mio palo lo devo chiudere, se mi incrocia e fanno gol, invece viceversa, quando prendo il gol sul tiro, io chiudo sul mio palo, quello me lo incrocia dall'altra parte, Gigi dovevi stare più in me, ho capito ragazzi, ma io devo chiudere il mio palo, se prendo il gol sull'altro palo è bravo l'attaccante che riesce a incrociare bene, ma se lo prendo sul mio palo è solo colpa mia anche se l'attaccante è stato bravo, comunque, 1-0 Norvegia, fanno in tempo a prendere il primo gol che prendono il secondo che è ancora più ridicolo, rinvio del portiere sulla tre quarti, contrastone, la Manume è una giocatrice dell'Irlanda che ha la palla, la Manume interviene decisa, palla che rimbalza, va se non è sulla Ansel o chi per esso, sulla Egenberg quello che era, che controlla il limite dell'area, è molto, come si suol dire, generosa se vogliamo usare il termine, anziché calciare in porta, quando si vede arrivare addosso alla difendente, diciamo, che lascia libera la Manume che intanto si è inserita, serve la Manume che, bella tranquilla, porta vuota, perché naturalmente il portiere dell'Irlanda, la buona Banz, e i difensori sono andati a chiudere sulla giocatrice norvegese, lei la taglia in mezzo, rasoterra, e per la mano basta un tocchettino per mettere dentro il 2-0. Poi arriva anche il calcio di rigore, perché praticamente la giocatrice dell'Irlanda interviene in questa maniera, prendendola così, no, salta in questa maniera, la prende con il braccio, inevitabile il calcio di rigore, anche se poverina è stata colpita da una giocatrice della Norvegia, ma successivamente, praticamente arriva a questo cross, lei lo prende con il braccio, una volta che l'ha colpita con il braccio, la palla, viene colpita a sua volta da una giocatrice della Norvegia, che è proprio la scaraventa per terra, ma il fallo essendo avvenuto prima, calcio di rigore, che la buona Hansen, con freddezza, incrocia, tiro a incrociare alla destra del portiere, alla sinistra dell'attaccante, che la buona Banz, la prendo, la prendo, la prendo, perché era alla sinistra del portiere, quindi di qua, la prendo, la prendo, la prendo, la tocca con le dita, ma la palla termina in rete, 3 a 0, e così termina il primo tempo, che poverina la Banz qualche altra parata l'ha fatta, inizia al secondo tempo e l'Irlanda accorcia le distanze, perché arriva a questo cross, il portiere non esce, la colpisce di testa, una giocatrice della Norvegia, la palla si impenna, rimbalza per terra, sono lì che la guardano, viene ancora colpita di testa per essere allontanata però lateralmente, arriva la giocatrice dell'Irlanda che tira una ciofeca di tiro, perché praticamente voleva tirare in porta, invece tira dritto per dritto, quindi la palla sarebbe terminata in fallo laterale, invece c'è la Nelson in mezzo lì, nell'area piccola, si vede spuntare questo tiro un po' così, lo colpisce di testa e qua bisogna dire che la portierina norvegese è stata un attimino lenta, perché il colpo di testa era centrale, lei era sull'altro palo però, perché era andata giustamente a chiudere sulla, si è spostata un po' piano, il colpo di testa era avvicinato perché arriva da appena appena fuori l'area piccola e quindi lei ci arriva, ma ci arriva quando il pallone ha già superato la linea di porta lo blocca quando è già dentro, quindi l'Irlanda accorcia le distanze, primo gol dell'Irlanda del nord in una competizione europea, entrerà nella storia, sì abbiamo capito ma stanno perdendo 3 a 0, non fanno in tempo ad accorciare le distanze, approcciarsi un attimino per provare ad accorciare ulteriormente le distanze, magari portarsi sul 3 a 2, far venire un po' di sgaggetta alla Norvegia, calcio di punizione per il norvegesi perché come al solito non so se era la numero 10 della Norvegia che adesso non mi ricordo il nome perché sono tutte delle biondone, a parte la McGee dell'Irlanda che veramente come difendente nulla da dire, coraggiosa, entra sempre in scivolata, ci mette air fisico visto che è una bella donnona però veramente va bene per giocare a calcio, le altre sia da una parte c'era l'Avance dell'Irlanda che è bella morettina con la sua codina, gli occhiettini blu, tanta roba, dall'altra parte c'era la vagonata di bionde, stavo impazzendo, va bene lasciamo perdere, comunque calcio di punizione, la tiro tu, la tiro io, la tiro tu, la tiro io, alla fine la tira la Reiten sul palo del portiere, però poverina anche lei c'aveva la barriera, due giocatrici o tre della Norvegia messe così, la palla passa dalla parte di queste qua ma esterna proprio, in modo che così, poi c'è la sua compagna di squadra che anziché prenderla di testa si sposta perché oddio prendo la palla sulla faccia, mi rovino i connotati e gol, e lì è una cosa che io non so, se hai paura di prenderti una pallonata in faccia non giocare a calcio, perché io quando vedo i miei compagni di squadra quando giochiamo a calcio a 5, che arriva il tiro, che gli arriva dritto sul faccione, che si spostano perché mi arriva dal tiro sul faccione o peggio ancora mettono le braccia, io mi incazzo, perché poi spesso e volentieri cosa faccio, prendo gol perché non mi aspetto che quello si spossa e la lascia passare, magari a due metri dalla porta, e poi pretendono che io faccio il miracolo, scusa, non l'ho vista partire, ciò te davanti, ti sposti all'ultimo momento, almeno spostati subito, che almeno la vedo, no, e ma cosa faccio, prendo una pallonata in faccia, ma vaffanculo, e in faccia si vede proprio, lei che si sposta letteralmente, la palla gli passa di fianco, rimbalza a terra un attimo prima di entrare, la poverina, la Bans si butta, ma ormai è leggermente in ritardo, la vista giusta, infatti vedendola da dietro ci si rende conto subito che l'ha vista proprio quando ormai stava andando in porta, e se sei Superman, siccome poi poverina la Bans, la portierina dell'Irlanda, non mi sembra così una Marcantonio di Donnone, non è troppo alta, per quello che si riusciva a capire perché, cos'è stato all'ultimo mondiale forse, c'è stato un giocatore, non mi ricordo di che squadra, forse della Danimarca eccetera, che ha segnato un gol di testa, io ho detto è piccolino, mi fanno gigi, ma quello è altissimo, vedendolo in televisione rispetto agli altri mi sembrava più piccolo degli altri, ho detto no no, guarda che, quindi la televisione non è che capisci se uno è stra alto, a meno che non li vedi schierati, vedi sensi e che ne so, un altro giocatore vedi che uno è 168, l'altro è 188, comunque Norvegia e Irlanda 4 a 1, l'unica soddisfazione per l'Irlanda, primo gol in una competizione europea per loro però, credo che questo girone che è composto da Norvegia, Inghilterra, aspettate se trovo i fogliettini ma mi sa che li ho messi via, Austria e appunto Irlanda del Nord mi è venuto in mente l'Austria, mi sa tanto, mi sa tanto, ma vedremo anche Norvegia e Inghilterra e Norvegia-Austria cosa verrà fuori, però penso che Norvegia e Inghilterra saranno le due squadre che si giocheranno al primo posto e si qualificheranno poi per i quarti di finale, do qualche piccolissima chance all'Austria perché forse l'Austria con la Norvegia potrebbe metterle in difficoltà ma la vedo dura perché queste sono veloci, tecniche, pressano da paura, quindi non lo so meno male che forse l'Italia, qualora dovesse passare il turno, dovrebbe sfidarsi A contro B prima del gruppo A contro la seconda del gruppo B, spero, perché se A è D e ci prendiamo la Norvegia o l'Inghilterra anche se dovessimo arrivare ai quarti ci spediscono a casa subito non che negli altri gironi sia messi perché nell'altro c'è la Luanda che è la stessa squadra che ci eliminò ai mondiali, quindi comunque andiamo a vedere nella globalità cosa lì con le statistiche che dicono chiaramente la netta supremazia della squadra norvegese 21 tiri a 7 per la Norvegia, 11 tiri a 2 in porta, nello specchio della porta per la Norvegia possesso palla 65 a 35, corner 9 a 1 non c'è stata partita anche se bisogna dire l'Irlanda ci ha provicchiato, non è che è stata lì messa in difesa ci sono stati momenti in cui la Norvegia le ha messe lì, non uscivano più neanche dalla metà campo nella ripresa i primi 10 minuti, soprattutto dopo il gol, l'Irlanda ha provato a fare qualcosina poi è arrivato il quarto gol e chiuso tutto vabbè, comunque Norvegia e Irlanda 4 a 1, domani altre due partite di cui parlerò sicuramente preparerò già il videoregistratore perché domani sarò al ciringhito quando torno mi vedo la prima partita delle 18 e poi anche la seconda alle 21 comunque ragazzoli, non sono male queste ragazze, non sono niente male, certo gli esteti del calcio diranno è un livello che siamo tra i dilettanti e la serie C però sinceramente io non mi sono annoiato a vedere questa partita, mi sono annoiato di più l'altra sera, due sere fa perché oramai siamo già venerdì, quindi mercoledì sera a vedere Inghilterra a Austria in cui a parte il primo gol pronti via dopo di occasionissime non ne ho viste e se vogliamo proprio andare a vedere a prendere il pelo nell'uovo la portierina dell'Inghilterra è stata quasi più impegnata che non quella dell'Austria anche se l'Inghilterra ha tenuto più palla ha cercato di creare più occasioni l'Austria ha fatto quei due tiri lì e poi poco alto però erano due tiri abbastanza pericolosi soprattutto uno dei due che è stato respinto con un bel tuffo plastico sulla sinistra detto questo ragazzoli io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao